Una serie di controlli a pub, barre, passiccerie, edilizia, esercizi commerciali e rivendite prodotti ittici sono stati effettuati nell'ultimo mese nella provincia di Messina dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro. 16 le ditte ispezionate, delle quali 9 sono risultate irregolari. 45 lavoratori sottoposti a controllo, di cui 16 rivelatisi totalmente in nero. In 5 casi è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per aver impiegato personale in nero, nella misura pari o superiore al 20% di quello effettivamente presente sul luogo di lavoro. Tale provvedimento risulta già revocato, avendo il responsabile regolarizzato la posizione dei lavoratori in nero e pagato la sanzione amministrativa aggiuntiva. Ancora 8 datori di lavoro, di quali un cittadino cinese, sono stati denunciati a vario titolo per violazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero sia mancata formazione ed informazione dei lavoratori, mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale, mancata sottoposizione personale a visite mediche obbligatorie, violazione delle norme a tutela dei lavoratori minori e utilizzo di impianti di videosorveglianza per il controllo dei lavoratori a distanza senza autorizzazione dell'ispettorato territoriale del lavoro di Messina. Le sanzioni amministrative e le ammende ammontano oltre 244.000 euro complessivamente.